Siamo bene, noi cacciati siamo bene Adesso non vediamo più qua sotto, siete voi altri che dovrete cercarci Voglio vedere qualche ministro che arriva da Roma adesso, che lo porta a casa Se non cambierà, rotatura sarà, se non cambierà, rotatura sarà La russa, la russa, la russa, vieni a pescare con noi, ci manca il verde La russa, la russa, vieni a pescare con noi, ci manca il verde La russa, la russa, la russa, vieni a pescare con noi, ci manca il verde La russa, la russa, la russa, vieni a pescare con noi, ci manca il verde La russa, la russa, vieni a pescare con noi, ci manca il verde La russa, vieni a pescare con noi, ci manca il verde No! 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 Lugas-Salti! Chiamo! Vembe! Lugas-Salti! Chiamo! Vembe! Lugas-Salti! Chiamo! Lugas-Salti! Lugas-Salti! Ma che era che mi scutei ora voi ci assisti! Stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Grazie a tutti. 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 a tutti.